Il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, ha rinnovato la sua scuola di assessori dopo l'addio di Luciana Camizzi, con l'ingresso di Ettore Garozzo e di Varrando. Alla luce di quanto è successo, abbiamo chiesto come è cambiata la posizione dei singoli componenti del civico consesso nei confronti dell'amministrazione comunale. Su 24 consiglieri comunali, solamente Annalisa Petitto e Valeria Visconti hanno risposto alla domanda. Giovanni Magri, Nina Schirmenti, Angela Caruso, Michele Doro, Federica Scalia, Anno Polidoro e Marco Matta, contattati, ci hanno risposto ma non hanno rilasciato dichiarazioni. Marina Mancuso, come capogruppo consigliare dei Cinque Stelle, ha dichiarato che il sindaco, fin dal principio, ha deciso in autonomia le scelte degli assessori e quindi, anche in questo caso, è che a giorni ci sarà un incontro col sindaco come movimento per affrontare l'argomento. Lisa Faragi ha risposto che la sua posizione non cambia nei confronti del primo cittadino. Oscar Aiello, Tilde Falcone, Fabrizio Di Dio ci hanno risposto di non poter rilasciare dichiarazioni essendo fuori sede. Infine, nessuna risposta da parte di Giovanna Mulè, Gianluca Bruzzaniti, Calogera Dornetto, Salvatore Mazza, Salvatore Petrantoni, Michele Gerratana, Michele Tuminelli, Oriana Mannella, Adele Castellana e Gualtiero Guarino. Abbiamo condattato il sindaco Roberto Gambino per una sua risposta e ci farà sapere nella giornata di mercoledì. La mia posizione nei confronti del sindaco non cambia assolutamente. Anzi, ha sempre ancora di più dimostrato che i mantra del Movimento Cinque Stelle, trasparenza e partecipazione, oramai non gli appartengono più. La mia posizione nei confronti dell'amministrazione a causa di questo rimpasto non cambia. È sempre la stessa. Giunta e sindaco non hanno un disegno politico, non c'è una visione politica. La città parla, le classifiche parlano, siamo in pieno stato di abbandono e degrado. La città parla, le classifiche parlano, siamo in pieno stato di abbandono e di abbandono.